è recentissima la notizia del ritrovamento all'interno di una biblioteca australiana di un documento che permette di datare meglio la nascita di Giorgione. Giorgione, artista nato nell'entroterra Veneto a Castelfranco in provincia di Treviso e morto a Venezia nel 1510, è certamente uno degli artisti più affascinanti e anche più misteriosi del Rinascimento in Veneto. Ha dipinto soprattutto per dei privati, per degli intellettuali, per degli appassionati, per una cerchia di cultori che amavano quadri sofisticati con riferimenti che a volte sfuggono anche a noi. La Tempesta, uno dei suoi dipinti più celebri e anche più elusivi, più misteriosi, è continuamente un punto interrogativo per gli studiosi, anche se oggi tende a prevalere l'ipotesi che rappresenti simbolicamente Adamo ed Eva cacciati dal paradiso terrestre. Quindi sarebbe un'allusione ad un soggetto addirittura dell'Antico Testamento, ad un soggetto biblico. Ma detto ciò, fin dalle primissime descrizioni che noi possediamo di questo quadro, quello che colpisce è l'evento atmosferico. Il fatto che in questo dipinto non si è rappresentato il solito cielo azzurro con qualche innocua nuvoletta, ma un cielo temporalesco, tempestoso, dove fra le nuvole cariche di pioggia, nuvole dense, grigie, si profila la saetta di un fulmine. E quindi una situazione meteorologica decisamente rara nella storia dell'arte e una attenzione nei confronti del paesaggio che è innovativa ed è forse la caratteristica fondamentale della pittura di Giorgione e più in generale di quella particolare stagione della pittura veneta dell'inizio del Cinquecento. Infatti Giorgione, in parallelo con quanto stava facendo esattamente negli stessi anni Giovanni Bellini, tende a non definire i particolari con un preciso disegno di contorno, ma ad utilizzare delle luci radenti che sfumano i contorni e che procedono per una successione di toni di luce e di toni di colore progressivi. Si parla appunto di tonalismo. Abbiamo in primo piano sulla destra un giovane uomo vestito con una asta vicino a delle rovine classiche e sul lato opposto invece una donna quasi completamente nuda che sta allattando un bambino. Fra i due un fossato, insomma c'è un piccolo fiume che però ha scavato una fenditura profonda. Il paesaggio sullo sfondo presenta una misteriosa città, una città silenziosa dove non compaiono figure, non compaiono personaggi e che ha come porta d'ingresso un semplicissimo ponticello di legno senza sponde, molto precario. Viene interpretata come l'ingresso al paradiso, questo ingresso non facile diciamo al paradiso. Il tutto con delle tonalità tendenzialmente fredde che sono proprio, come dire, guidate da questo temporale, da questa tempesta che si addensa nella parte alta del dipinto. L'opera non è di facilissima datazione, ma insomma siamo nei primi anni del 1500 e appartiene proprio a questa produzione molto particolare, molto peculiare di Giorgione che fa certamente riferimento ad un gruppo elitario di collezionisti e di letterati che stanno portando anche una sensibilità nuova nella committenza delle opere d'arte all'inizio del 500 in Veneto. Grazie a tutti.